Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Come state? Spero che stiate tutti benissimo e prima di iniziare questo video voglio davvero ringraziarvi per esservi iscritti al mio canale, perché siamo in centomila, centomila persone studiano, si interessano o sono incuriosite dalla lingua italiana, quindi questo mi fa molto molto piacere. Detto ciò, grazie ancora molto per esservi iscritti al mio canale e adesso iniziamo con la lezione. Allora, nel video di oggi vorrei parlarvi del futuro semplice in italiano. Non parlerò della coniugazione verbale in questo video, perché su internet potete trovare tantissime risorse che vi spiegano come coniugare i verbi al futuro semplice. Io vorrei parlarvi dell'uso del futuro semplice in italiano. La cosa fondamentale che vorrei voi vi ricordaste è che in italiano si usa il tempo futuro semplice per esprimere qualsiasi azione avvenga nel futuro, programmate o spontanee nel futuro. Quindi quando parlate al futuro in italiano non dovete pensare in inglese o in altre lingue nella vostra lingua madre, perché il risultato non sarà italiano. In italiano si usa il futuro semplice per esprimere azioni programmate o spontanee. Forse domani pioverà, quindi decideremo domani che cosa fare. Ho prenotato una vacanza per quest'estate, programmate, andremo in basilicata. Ok? Quindi per qualsiasi tipo di azione nel futuro usiamo il futuro semplice. Spesso sento dire delle frasi del tipo Sto andando in Italia quest'estate. C'è qualcosa che non vi suona, vero? Sto andando in Italia quest'estate. Questo è un calco dall'inglese, è un calco della struttura del futuro programmato nella lingua inglese che non funziona in italiano, non si può dire in italiano, perché la perifrasi Stare più verbo al gerundio, quindi stare coniugato al presente indicativo più verbo al gerundio, si può usare solamente per esprimere azioni che avvengono nel momento in cui si parla. Per esempio, adesso io sto parlando a voi, sto parlando ad una videocamera e sto registrando un video. Posso usare stare più gerundio al presente perché sto effettivamente facendo queste cose. Mentre parlo, sto anche svolgendo l'azione. Questo è l'unico uso della perifrasi. Stare al tempo presente più gerundio. Quindi non posso usare questa perifrasi per parlare del futuro, perché non è italiano. Per qualsiasi cosa che accadrà nel futuro, uso il futuro semplice. Andrò in Italia a luglio. Dovrò andare dal dentista tra tre settimane. Se non avrò molto lavoro da fare stasera, ti telefonerò per chiacchierare un po'. E questo è il primo punto che volevo affrontare in questo video. Adesso passiamo agli altri due. Perché il futuro semplice ha altri due usi che sono un po' diversi e che non hanno a che fare con le azioni future. Gli altri due usi del futuro semplice sono l'uso epistemico e l'uso concessivo. Praticamente il futuro epistemico esprime un dubbio. Per esempio, dov'è Monica? Non lo so, sarà all'università. Quindi qui sarà esprime un dubbio. Io non so dove si trovi Monica e quindi faccio un'ipotesi su dove si possa trovare. L'altro uso del futuro semplice si chiama uso concessivo. Vuol dire che io riconosco un fatto come vero, ma non lo ritengo importante. Per esempio, queste scarpe saranno anche di moda, ma non mi piacciono affatto. Quindi io riconosco che le scarpe sono di moda. È un dato di fatto, è vero. Queste scarpe vanno di moda, ma per me non è importante. Io non le compro perché non mi piacciono affatto, quindi non mi interessa se le scarpe sono di moda oppure no. Non è importante per me, ma riconosco che queste scarpe sono di moda e per questo motivo uso il futuro semplice. Queste scarpe saranno anche di moda, ma a me non piacciono. Gli ultimi due usi del futuro ho voluto spiegarveli perché è importante saperli, ma la cosa più importante che vorrei voi assorbiste da questo video è l'uso del futuro semplice per il futuro, per azioni future. Quindi, per favore, non usate stare più gerundio per parlare del futuro, perché non è italiano. Ok? Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nella prossima lezione. Grazie ancora e a presto! Ciao!